Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Funny Gameric, siamo tornati su Dragon Ball Z Kakarot Eh, l'abbiamo visto nella puntata precedente ragazzi, Vegeta si è dovuto sacrificare, che si è sacrificato in vano comunque sia Perché Majin Bu si è ricostruito, era diventato un mille pezzi, ovvero ragazzi, la storia la conosciamo, la conoscono tutti più o meno Cioè, quelli che se lo sono guardati, perché ci sono anche quelli che Dragon Ball non lo conoscono ragazzi, cioè, assurdo sì, ma esistono persone che non conoscono Dragon Ball, che non se lo sono visti Ma comunque ragazzi, adesso siamo da tende, che Goku ha capito, diciamo Tramite l'ora di Krillin e Junior, andate a finire qui, con te le trasporti Goku si fece guarire da tende, e scopri i dettagli della situazione tra Krillin e gli altri Che cosa vuoi? Begetta è una buona felicità! Maginvoo è solo tu! Non credo proprio... Non credo proprio... Ora non lo so... Begetta e Orata non c'erano le nostre esperienze. Se il Begetta... 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 Che... Noi... Non riesco... S..? C'è... Oh si... Sì... Perché... Invegetta... Non c'è... Se va a vivere un Paolo... Se non è iniziato... Non è possibile... Non... Non... C'è risultato... Esa risultato... Non c'era una buona felicità... Ma... Non sapeva... Ah, Goku la sapeva Ah, sì, nell'altro mondo Sì, non è un personaggio molto forte Non è un personaggio molto forte Se volete 30 minuti, non si volete a casa Non si volete a prendere un'altra parte E non si volete a prendere un'altra parte Ah, sì Voi, un po' di carne o Bejita Se volete a vivere, tu e che fiori a questa fissione E non si volete a una guerra e non si volete E non si volete a combattere un'altra parte Ma-Zin Buu Sì, sì. Quattro! Quattro! Pikkro, a Tugani ti Ti mi ha insegnato a Fusano, ma non c'è di più tempo. Perchè per me ha fatto un sacco di fiducia. Secondo me, che ci sono. Allora, baby. Come si è piuttosto. Seessi che non c'è, ti potresti farà quello che ci vediamo. ma anche se non lo so ma anche se se trancionale e scopriamo fino a che si può essere un po' di più ma anche se non ci sono ma ma non 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 Questo è un paio. Non si può perdere. Se non si può perdere, non si può perdere anche voi. Puoi tornare a casa. Cosa? Si è pronto, è pronto. Questo? Cosa? C'è un film di Shennlon? C'è un film di Dragon Ball? C'è un film di Gromma, n'è? Non conosciuto l'ocche. C'è un film di Shennlon? C'è qualcosa di che... VEGETA è stato una pomodoro d'autantica di bambini. Sono stati vestiti di vivere. Ma... maggiore... Quando ti devi riconoscere i trei... se non lo faccio, per ora che non voglio... Sì! 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 La spada zeta ragazzi Spettacolo Ora lo fanno diventare Gohan Supremo Che spettacolo ragazzi siamo sul mondo dei Kaioshin Non c'è niente ma dobbiamo potenziare questo Ora lo fanno diventare Gohan Supremo Z-Sword Non c'è niente ma non c'è niente Ma non c'è niente Senza trasformarsi in Super Saiyan Raggiungerà una forza assurda Questo è Z-Sword? Questo è Z-Sword Questo è Z-Sword Sì Questa è riuscita Questa è riuscita Questa è riuscita Non c'è l'affa, all'inizio. Non c'è l'affa, non c'è l'affa. Non c'è l'affa, non c'è l'affa. Non c'è l'affa, non c'è l'affa. 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 L'affa they're charged sound. Non c'è l'affa. Non c'è l'affa. Non c'è l'affa. Si tu pel Harold leER reaction. Che cosa è? Si tu tiens una fragm acompanhazione. C'è l'affa. Ma prova che l'affa sta耗endo un sac. Qui leER ? Non c'è l'affa. Non spaccare la memizens action. Si tu pensi a... Ok, Trunks, andate a casa, andate a mellare! Maginvoo e Babidi, andate a mellare! Ok, ragazzi, non è vero? Non è vero, non è vero? Ok, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, andate a mellare! tra poco ci dovrebbe essere Goku di tezzo livello che spettacolo che spettacolo ragazzi tanto potenziamo questo questo di qua ah dobbiamo mettere questi per vedere se ci sono allenamenti si li faccio ragazzi però ovviamente non ve li faccio vedere perfetto facciamo anche questo ho tre limite ragazzi trofeo ha guadagnato siamo a 67 il 70 non lo farei per adesso ci potrei anche riuscire ma niente non lo faccio ragazzi allora vediamo se possiamo potenzialare qualcosa adesso si perfetto abilità sfera genkidama lo sostituiamo con questo questo nuovo che abbiamo sbloccato attacco meteorico lo sostituisco con questo martello del drago andiamo ragazzi ma forse qui si trasforma in supercellente di terzo livello se non erro ragazzi ciao 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 Sì, sono stato un po' di chiusura a fare un po' di chi. Bokutati otaosu te? Soria 1000 ne toccun sta te muda da zò Sonna no oma te alu mo'n ka Sugu ni koko ni trette kuru'nda Darò na So'yuuu to omo'nda zè Jaa oram Cho bitto dake tèi kou sa sitte mo'rao'u kana Hehehe, oもしroi Omae no o so roci sa o ha kiri mi se te ja de Ok, Majin-buu Wai, majiant-bu, i kati vieni Vuoi, vieni Ii kati, ui kati Ii kati, uo mura Ma se te ne ha mai tonti e Candovo invito tra a babidi Non... Ahifat-bu Non veni a cercare se vieni Majiant-bu è un progettuale Majiant-buu. Majiant-bu ha detto che sia un progetto Ehm... Ma... ma... Voglio farlo ancora con la domanda? Se lo farai con la domanda, tu lo vedi a te! Ehm... Ma... Ehm... 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 Ma... Ehm... Vediamo! È difficile da dire! Lo credo, West Virginia! E' difficile, e allora, è Comeu! Ehm.. ...interesso livello, ragazzi! Spettacolo È il momento Questo è il secondo livello E ora? Spettacolo ragazzi Il terzo livello I brividi Che spettacolo Proviamo subito questa trasformazione ragazzi È fortissimo No una caramella sono diventato Sì per lui è un gioco ragazzi Ma di cos'è fatto? Di Big Bubble Di gomma Ancora Ancora Spettacolo ragazzi Ma fa sempre sta mossa Mi hai rotto Mi hai rotto con sta mossa Sempre sta mossa qua ragazzi Mi hai rotto con le Ehm? Il foglio di Trunks è iniziato a rinforzare. Ho trovato il DRAGONRADAR e ho trovato a rinforzare il territorio del nero. Oi! Perché torniamo? È divertente con te! E' divertente! C'è questo? Gioca di psicologia, gogo. E' morto, ora è libero. E qui è il momento che conoscerà Mr. Satana, ragazzi. Che spettacolo. Di che stiamo parlando, ragazzi. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Di che gioco stiamo parlando, ragazzi. Che stiamo parlando, ragazzi. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Il balletto, dai. Non c'è nessuno. 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 Non so, anche il gioco, ragazzi. Alla prossima. 1, 2, 1, 2 Eh, è scalduto il tempo Sì, ho capito Grazie, hai scalduto, hai scalduto Sì Gokun, sei buono, sei buono Sì, sei buono, sei buono Sì, sei buono, Son-kun Sì, sei buono, hai scalduto Hai scalduto, hai scalduto Non c'è l'altro mondo Beh, oddio Sì, non c'è l'altro mondo Sì, non c'è l'altro Un abbraccio Che bello ragazzi Questo non era un abbraccio comunque Vabbè Ci rivediamo quando morirete anche voi Ma che sta frase Becchietta Becchietta Vabbè 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 Ehm Ehm Vabbè La trasformazione Super Saiyan 3 di Goku è ora disponibile Che spettacolo ragazzi Finalmente abbiamo il tezzo livello Beh ragazzi Raggiungiamo Gohan Cioè Questo non è diciamo l'altro mondo Però Goku è riuscito a sentirlo Nel mondo dei Kaioshin Attenzione Talmente la La potenza di Gohan È riuscito a sentirlo Dall'altro mondo Ma come sei vestito Ha 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 Oh Oh Kaioshin S-sor Si 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 Ma... ...e tu... ...ma perché qui... ...ah... ... 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 Non c'è tanto il mondo. Ma che cosa che parlavano prima di parlare di un po' di spettacolo? C'è un po' di piacere. C'è un po' di Z-Sword? C'è un po' di spettacolo che si chiama il mondo è più difficile. C'è un po' di spettacolo. Siamo provati a provare. Ah ah, sicuramente come un tofu. Questo è il Z-Sword. Siamo! Un... in politicalanza! ecco il sommo ah si si è liberato con la spada è un pochino non è è un pochino che non vedo e non ma non 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 come un maestro modan Sì. Sì, è vero che il cielo si può salvare il cielo, ma anche se potrebbe essere morto a Bruma. Sì, allora... E' quello che è quello che è? Voi? 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 In casi queste cose? Voi? 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 Voi che stai chiamando parecchio di poter fare. No, vieni a parlare. Voi? 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 E' un ucci e ikenzo? E' un ucci. E' un ucci. Ma zinbun o' taosite koi! E' un ucci. è Adesso si tratta di questo? Gio, Gio, Gio! S-SONNA! Andate sattamente così Allora dovrebbero trasformarsi in quell'opacchione giusto Si hanno messo anche questo ragazzi Su giochi assurdi Ah no, non l'hanno messo Conta alla rovescia alla fine del mondo Spettacolo Golden Allora dovrebbero trasformarsi in questo caso Questa è un po' In questo periodo, non è sicuro di勝are! È un'altra persona, ma... è ok? È un'altra persona. Buongiorno a tutti ma che ci sono stati ma non è un'esplice ma non è un'esplice il risultato è stato ancora che conosceranno è stato questo sergo è stato un ucciso un ucciso è stato il ucciso del mondo è stato Intanto riesce a calmarlo. 1961 47 47 42 42 43 Ah fu lying Grazie a tutti. Oh, faccio tutto. Io sono venuta a un progetto per esempio. Sei cosa vuole per essere il progetto? Si, soltanto, ti sono dei prezents della Cinnazza di Flandoglia. Questo è il nostro Holocausto. E io sono un Siemone, vio. rautta. Quale è un between? E non gli fa niente. 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 аб s honesto. Io mi ricordavo che sparavano al cane. No? Se non gli fa niente. Grazie a tutti 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 Spettacolo questo Majinbo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti